buonasera a tutti quanti dopo quasi sei mesi siamo ritornati col mcdonald bulker king di brembate quando costava 1 euro e 30 la benzina e 1 euro e 40 il gasolio costava una volta adesso costa prima il pieno 2 euro e 10 al litro tantissimo ormai non si può più andare in adesso riesce non è un chicco per andare in giro con la macchina anche se un cinquantino domenica se già mezzanotte domenica 13 marzo 2022 con mattia stanno in giro con il grande mattia è molto impegnato molto impegnato del cellulare dopo tanto siamo ritornati al mcdonald al mcdonald chiudo cavolo per un gelato lo prendermi andremo al bulker king a prendermi un gelato buona sera tutti quanti e ci danno mani comunque fa abbastanza freddo siamo a bergamo provincia di bergamo siamo tra due tre gradi fuori anche se non sembra però fa freddo buona sera tutti quanti e ci danno mani con la nuova macchinina dopo tanto l'ho comprata molto assettata sportiva ci danno mani ciao a tutti